Allenamento metabolico, oggi 45 minuti, livello intermedio, ti serve solo un tappetino. Cominciamo con addominale ovviamente. Vi dico una cosa, partiamo con questa frase oggi. Cadere non è un fallimento, il fallimento è rimanere là dove si è caduti. Così, vi do questa carica. Cominciamo con lo spaccaddome. Ve lo ricordate? Se ve lo ricordate, quanto mi avete insultato per lo spaccaddome. Ragazzuoli, che dire? Andiamo, spaccaddome sia! Il primo in plank. Partiamo con un plank dinamico, leggerissimo. Via, plank dinamico, avanti e indietro, dai! Andate, andate! Che lo scaldiamo un po' questo addome. Spaccaddome, 6 esercizi, 30 secondi l'uno, tutto di fila. Pausa, altri 6, pausa, altri 6, così. Massacriamo questo addome. Ancora, 5 secondi, dai! 3, 2, 1, plank, jack, saltendo. Possiamo parlare anche da su questo. Dai, dai, dai! Che questo è il riscaldamento finale, iniziale. Se vi ricordate, tempo fa, in una live che avevamo fatto con Nico Pace, ci aveva detto, un modo per riscaldarci è fare del plank. Bene, eccomi serviti. Twist plank, destra, sinistra. Il balletto, hop, 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 dai! Strizzate un po', strizzate bene. Destra, sinistra, destra, sinistra, dai! Ormai siete più bravi e esperti di me. Livello bomberaggio, assoluto. 3, 2, 1, side plank, da un lato. Ma lo voglio su e giù questo, eh? Non pensate di cavarvela così, stando fermi. Ormai no. Ormai siete di bomber estremi. E andate su e giù. Dai, dai! Che l'obliquo! Siamo quasi pronti a mostrarlo! Fra un po', gabbia aperte, dai! 3, 2, 1, side plank dall'altro lato. Soppla! Su e giù sempre, dai! Sono stato anche lento in questo cambio. Vi do una buona notizia! Il prossimo è un plank! Ma non vi dirò Hollywood! Oggi non ve l'ho messo! Vi ho dato un giorno di riposo da Karate Kid! Bravo, vai che sono stato! Il prossimo è il plio plank! L'abbiamo fatto anche ieri! Ovvero, vado avanti e indietro! Alternando le gambe! Prima avanti una! Poi davanti l'altra! Plio plank! Plio plank! Plio plank! Plio plank! Dai! Hop! Daie! Daie! Bombe! Bombe! Dai! 5 secondi,اذ belevesse la prima pausa! Dai, 2! 1! Beh! Prima pausa! Respira! perché ora mi fai una serie di trap crunch uno dietro l'altro sto addome arriva mettiti qua davanti vai così come ha fatto Cristiano Ronaldo siamo tutti Cristiano Ronaldo dai così siamo meglio di Cristiano Ronaldo dai crunch gambe giù crunch gambe a terra fidatevi fatelo con le gambe a terra fidatevi ve lo dico io perché vedo già quelli dopo per cui il primo è crunch gambe a terra 10 secondi dai hai appena avuto la pausa sei presto 3 2 1 crunch gambe 90 hai capito perché ti ho detto prima gambe a terra se l'hai già fatto granbe 90 sei un pirla beh che adesso hai un minuto di fila dai vai vai volevi fare il bomber ma ragazzi di bomber ma ragazzi di bomber qua non ce n'è dai in realtà sono tutti bomber 3 2 1 crunch gambe tese oh ve l'ho detto che c'era una serie di crunch questo qua è Ronaldo crunch quello che si fa diventare come Cristiano Ronaldo stranchi di capi dai 13 secondi dai 10 non mollare 6 dopo hai il tap tu ti recuperi 3 2 1 in tap vai oh qua respiri un pedo questo è più easy dai dai che gli ultimi due tornano ad essere un po' mortali questo te l'ho messo per respirare dai 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 che lo spacca addome ci piace di brutto è il primo che ho inventato ma secondo me è una figata pazzesca lo spacca addome dai 3 2 1 crancia libro oh oh apri e chiudo gambe e braccia scusate ma non ci sto devo andare indietro mi vedrete peggio dai 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 continui a non mollare oh crancia libro sempre dai oh 8 secondi continua chiudi bene apri e chiudi il libro bicycle dai dopo hai la pausa dai tutto adesso l'addome brucia brucia l'addome brucia brucia dai 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 pedala pedala sali in vetta vai che mi in vetta oh 5 secondi la vetta è vicina 3 2 1 pausa quanto è facile sto spaccadome ti guardo guardami negli occhi è un patto tramite ora parte bassa prevalentemente quindi sai già come dovrei mettere le gol di scistro tutti loro fratele faccio in scala quindi il primo è tamburello dai che il tamburello è il primo via tamburello 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 dai tieni le gambe sollevate ti metti così a guardare il cielo dai il cielo è sempre più blu almeno qua 15 secondi tamburello vuol dire che è duro qua dai tambura 5 secondi tamburelliamo dopo scisto il verticale appaggia un secondo scisto il verticale dai la terza fase lo sai che è la figura perché hai già 6 minuti sull'addome di lavoro per cui l'addome è già faticato il resto qualsiasi esercizio ti metto lo senti dai 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 8 secondi di scisto non mollare scistola scistola 3 2 1 ti metti un attimo così v sit ti metti a v ti guardi attorno tieni i bracci aperti mediti pensi a quanto sei bello alla tribù meravigliosa che si sta allenando con te perché la carica la date solo a me ve la date anche tra di voi perché siete in tanti tutti assieme come se fossimo tutti qua in un prato come a un concerto capito uguale ci si autocarica da qua blue seat crunch tiri su e giù le gambe e muovi anche un po' il bacino brucia ragazzi ve lo dico il mio brucia parecchio però dai dai non mollare si comincia a sudare ma non mollo non si molla mai sempre fino in fondo sempre fino in fondo dai 3 2 1 line lab raggiato reverse crunch portando sul bacino dai manca un minuto di lavoro poi l'addome l'hai triturato l'addome l'hai frullato hai fatto uno shaker shaker protecto l'addome dai ce lo vediamo in un sorso questo addome dai dai 5 secondi bomber vieni con me 2 1 obliqui e porti su strizzi da un lato e dall'altro dai pop pop rispetto a prima sto girando strizzo proprio ok strizzo la ciccia dai le maniglie dell'amore dopo qua le devi girare tutte bene 3 dai innamorati strizzate queste maniglie dell'amore vai vai 2 ben hai finito lo spacca don ovviamente siamo manco ma non siamo neanche lontanamente vicini alla fine sono qua ti guardo negli occhi ti prendo abbiamo cominciato così via t-rotation push up ti parte in 5 3 2 1 quindi t-rotation push up t-rotation push up dai dai che oggi facciamo un bel focus su braccia e parte alta 50 secondi di questo puoi fare fatica col push up ma col fatto che hai il t-rotation in mezzo stacchi un attimo dai manca 30 secondi continua non dobbiamo andare a canna oggi oggi dobbiamo andare a un ritmo che riusciamo a sostenere 50 secondi di questa mia fase devi andare più veloce nella fase dopo quanto te lo dico io quanto te lo dico io quando te lo dico io dai andate giù 5 secondi 3 2 1 pausa il prossimo il prossimo flamb jack qua invece è andata a manetta apro e chiudo le gambe da flamb via manetta apro e chiudo apro e chiudo qua mando sul ritmo apro e chiudo vai apro e chiudo vai 10 secondi apri e chiudi vai veloce che il cuore lo mandi su un attimo 3 2 1 pausa ora hai shoulders up mano piede segui me in 2 1 shoulders up mano piede shoulders up mano piede shoulders up mano piede shoulders up mano piede dai shoulders up mano piede dai 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 hop hop dai dai continua hai 30 secondi di paura come va come va ci sei il cuore va un pelo su un pelino suori mi fai 50 secondi di superman in movimento va bene tra 10 secondi partiamo vai 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 via superman in movimento se vuoi tieni su anche le gambe forti avanti e indietro le braccia se mi tieni su le gambe fai più fatica ed è meglio continua continua vai bomber manca 30 secondi dai che facciamo lavorare la parte alta qua la schiena lavora un casino se tieni su bene manca 20 secondi dai hop vai 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 come va dai continua continua paura paura mountain climbers si parte adesso vai mountain climbers questo di nuovo a manetta a manetta hop 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 vai 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 più veloce che puoi ieri abbiamo fatto un casino dai ancora 5 secondi 3 2 1 pausa il prossimo mi torni a fare superman in movimento per 30 secondi vai superman in movimento hop vai vai qua voli praticamente anche le gambe sono sollevate vai quindi tieni l'addome contratto le braccia che si muovono avanti e indietro dai ancora 10 secondi poi mi hai 30 di pausa dai dai 5 secondi 3 2 1 30 secondi di pausa dopo mi vai a fare mano piede come prima come prima con cross mountain climbers come stai? stai bene? sei in forma? dai che sei in forma 5 secondi si parte mano piede cross mountain climbers quindi faccio una doppia X vai mano piede cross mountain climbers mano piede hop dai hop là dai 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 bomber bomber dai su hop puoi aumentare un po' il ritmo se vuoi manca 30 secondi dai che ne hai un casino sei fresco come una rosa dai continua 20 secondi ci stai quasi sei già più di metà io continuo ad andare indietro tra un po' esco hop hop dai dai continua 3 secondi dai hop pausa adesso due plant jack due mountain climbers a manetta messo di voi mi voglio manetta quindi apco chiudo apco chiudo mountain climbers dai hop hop mountain climbers hop hop mountain climbers dai bomber dai 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 poppe poppe dai hop continua pausa ora il superman di movimento 30 secondi il primo giro dopo hai fatto dai dai 30 secondi di superman avanti e indietro non mollare oggi non hai il cuore che va a manetta però hai tante alternanti di esercizio che ti fanno aumentare il metabolismo ancora 10 secondi per cui continuerei a bruciare anche nelle ore dopo dai 2 1 30 secondi di pausa 30 secondi di pausa andiamo al secondo circuito oh cosa facciamo qua la spinge la spinge come va la spinge ci piace la spinge dai che tra poco si parte la spinge te la ricordi te la ricordi che va a spinge 50 secondi di spinge dai dai hop e vai su torni indietro hop se non riesce a farlo così da qua vai su e basta come preferisci te a me piace il quale sto un bimentino qua così e il cobra che tira fuori la testa 30 secondi ancora dai cobra hop dai le cobra hop dai le cobra 20 secondi dai cobra dai cobra hop ci sei quasi dai la spinge è bellissima la spinge hop 5 secondi ci sei siamo in Egitto qua pausa ok burpees in 3 2 1 20 secondi di burpees qua mi mandi il cuore su questa è la parte attiva vai come mi piace quando ti metti i burpees dai come modo hop ma ormai sei bravissimo a fare i burpees vai pausa il cuore sale fallo salire 30 secondi di di ora vai di di questa tonicità sei tonico dai 5 secondi 3 2 1 hai 30 secondi di palla ti faccio vedere quello dopo perché non l'abbiamo mai fatto se me lo fai per 50 secondi ti metti in questa posizione tipo del cagnolino e mi vai avanti e indietro si chiama blast off push up hai 10 secondi per recuperare perché voi parti questo è tosto te lo dico questo lo accusi vai 2 1 blast off push up dai hop e vai giù torna indietro vai giù torna indietro dai vai a guardare bene il pavimento hop come va tosto sto blast off eh vai manca 30 secondi il bomber non muore adesso il bomber si fa triturare le braccia perché le guardi toniche 20 secondi ti sto guardando vedo cosa fai ti sei fermato? ci controllo eh vengo lì sculacciata hop 5 secondi dai ti sei quasi pausa prossimo cosa abbiamo? papis papis dai hop 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 dai dai che arrivi alla fine di questo circuito che le braccia fai patica ad alzare la bottiglietta d'acqua dai pausa dix così tre due uno dix dix dai dix dix e manca niente dopo i 30 secondi di pausa dai dai tre due uno ora ti dico che hai i v push up più v command che li faccio vedere non mi riposo tu riposa v push up è easy fai la v e vai push up v command la v vai su e giù quindi aumentiamo il peso sulle braccia ah non si lavora le braccia? cosa ha detto non lavora le braccia? ricordo io così va gli ricordo dai v push up e ne fai due e poi fai due v comando alternando le braccia due v push up due commando hop dai due v push up hop e due v comando dai dai che quando comincia a suonare lo dico manca sempre meno dai dai continua manca 20 secondi dai vonder due v push up due v comando il v comando è fighissimo non l'avrà mai fatto perché aumenti si impendono sulle braccia che ti devono tirare su dai dai finito finito pausa 10 secondi prova a eliminare Martins piangi piangi un po' dai piangi un po' piangi un po' dai su 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 continua 10 secondi rituriamo le braccia dai continua 3 secondi paolo 10 dips 2 1 dips 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 30 secondi dips per le braccia allora non vi ho detto che non sudiamo ho detto si suda meno di ieri quello di ieri era un workout per sudare quello di oggi è un metabolico ma come sapete io ho bisogno di farvi un po' il mazzo 30 secondi di paolo dai vieni un sorso e vedete che bello il prossimo oggi è una giornata con tante cose nuove i-o modificato attenzione si chiama lateral donkey cosa vuol dire la donkey invece che andare su saltello letta e sinistra vai donkey laterale i-o vai è meno pesante del donkey ma sono 50 secondi per cui è lunga le spalle e le braccia guardi senti ma sono dai continua quando non ce la fai fai una pausa veloce poi riparti ma tu bomber non fai pause vieni con me in fondo 20 secondi ancora dai andiamo 10 secondi dai bomber dai bomber dai 5 vai vai pausa camminata laterale da plank nifficas lateral i-o dai camminata laterale da plank continua 10 secondi cammina 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 dai dai vai vai un secondo pausa push up per i triccipiti per i stretti vai mi appoggi vado su mi appoggi vado su se ce la fai non ti appoggi le braccia molto strette sono solo 30 secondi tanto dai ho ho dai manca 10 secondi non mollare non mollare 3 2 finito 30 di pausa 50 secondi di commando ragazzi le braccia si fanno sentire sentite già le braccia si si le vogliamo così ti vogliamo così vi vogliamo così vi vogliamo così commando respira 50 secondi dai vai piano hai già le braccia stanche per cui non puoi andare troppo a camma devi ragionare devi pensare hai 50 secondi ne mancano ancora 30 per cui il ritmo è un ritmo che ti permetta di arrivare in fondo usa la testa te l'ha messa non solo perché sei bellino o bellina te l'ha messa per ragionare dai 12 10 vai 8 ti sei quasi non molli vai 2 1 pausa camminata laterale da plank le braccia dopo le butti nel chest vai camminata da plank laterale andiamo 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 a lavorare andiamo e vi ricomincio a lavorare salvatemi salvatemi voi fate una dichiarazione che vi volete ancora qua sollevamento si stiamo qua si sollevamento laterale braccio mettete di lato e andate su spinta laterale con braccio vai lo ricordate dai 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 continua ancora 10 secondi dai dai che ne hai anche troppo vai ci sei fai 30 secondi non te lo dico cos'hai adesso lateral donkey destra sinistra 2 v commando puoi dirlo tu si 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 e va bene ragazzi che vi devo dire benvenuti nella mia tv lateral donkey dai 1 2 v commando 1 2 lateral donkey e v commando hop da una parte e dall'altra lateral donkey dai hop e v commando continua 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 lateral donkey v commando hop dai cercate di stare un po' v ancora 20 secondi dai le braccia come stanno quanto mi state odiando parecchio mi sto odiando da solo anche un po' di copace se sei in ascolto sappio dai 10 di paura camminata laterale la planche in uno si parte via hop hop andiamo 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 a lavorare hop 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 dai 5 secondi continua continua pausa sollevamento laterale altro braccio quello che prima non hai fatto regga io sto comandando vai come andiamo guardami odiami ti mando un bacino ciao come stai mi vuoi un altro tieni sono buono dai ancora 10 secondi dai 5 3 2 1 fai 30 secondi di paura poi parti l'ultimo come andiamo? voglio guardarti negli occhi te lo do anche da qua un bacino gratti per darmi la carica dai 10 secondi si parte granchio totals te l'ho fatto fare ieri così dai hop 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 dai bomber dai bomber siamo bomber hop 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 dai continua sei bello sei bravo hop sei bomber sei tutto tu puoi tutto tu puoi tutto tu puoi tutto dai non hai limiti vi dico solo che manca 20 secondi e siamo arrivati visto come lo scrivo quando scrivo la live alla live numero 40 fa impressione sono a dirlo questo numero 40 giorni assieme 40 giorni 40 notti come il film pausa avete fatto di 40 notti con me che avete sognato con il vostro incubo i-o come questo donkey ora lo messo vero e proprio dai vai hop hop dai i-o 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 continua 3 2 dai panza 10 secondi ora il superman push up superman push up dai va davanti va di indietro push up avanti indietro push up guarda qua guarda qua guarda un po' dai vola superman dov'è la criptonite? non ci abbiamo noi la criptonite noi abbiamo una netta sempre siamo indistruttibili pausa ci guardiamo un po' così meglio come rosso quando posava qua ho diamante vai fammi un dipinto ora cosa abbiamo? superman no dov'è? lo pezzo sollevamento busto superman va bene? ho capito qual'è? vai 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 se vuoi tieni anche le gambe sospese vai ancora più fatica tu che sei un bomber puoi farlo vai vai qua lavora la parte bassa la parte bassa della schiena vai vai tirati su e vai giù su e giù dai su e giù 20 secondi ancora continuo a 15 ci sei quasi 10 dai 8 vai bomber 4 2 falda farmi indovinare i oh i oh ci sei? vai i oh dai ragazzi il corpo del lavoro è grosso oggi è questo eh siamo quasi alla fine continua dai dai pausa superman rotation da superman lo muovi così vai vai su a superman vai sinistra destra vai giù vai su sinistra destra su sinistra destra guardi i lati come per attraversare la strada su vai vai sinistra destra vai su sinistra e destra dai manca poco questa è dura si sente se lo fai bene pausa 30 secondi abbiamo gli ultimi 2 minuti e 30 3 minuti e 30 cosa abbiamo 4 shoulder top e rotation destra sinistra sto sudando come un in oh dai non mollarmi non mollarmi adesso 4 shoulder top 1 2 3 4 in rotation da una parte dall'altra vai shoulder top e poi vai di in rotation alforitmo come vuoi non ti sto puntando la pistola alla testa ti sto solo guidando dando la carica ti do un po' di scarica elettrica dai 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 che sei una dulace continua 20 secondi sempre 4 shoulder top poi di rotation vai vai continua manca 10 secondi ci sei dai 5 3 l'ultimo di rotation dai pausa prova a indovinare che hai seguito l'ordine i o i o tutti bocciati quest'anno dai vai vai tutti i asini hop continua sei qua per non sentirti in colpa di tutto il vino che hai bevuto in sui giorni tutti gli aperitivi che hai fatto pausa cosa abbiamo spider push up questo è tosto se te lo ricordo spider destra sinistra e da lì push up vai spider spider push up spider spider push up vai poi sei alla fine dai dai non molli magari barcolli ma non molli nessuno dalla tv molla siete tutti bomber mi voglio bene per questo dai continua hai finito sei a termine perdonatevi non solamente mettere il circuito dai sono tre minuti di lavoro con 30 secondi di pausa bomber da 40 minuti che ti alleni e non te ne sei neanche reso conto dai guarda le braccia che abbiamo lavorato oggi guardate le meme guardate le meme che mirate la carica io parto subito si va si vola il primo 4 skip 4 back kicker 30 secondi partiamo 3 secondi 2 1 4 skip 4 back kicker mi alterni questi dai vai 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 qua mi mandi sul cuore hai 4 minuti di lavoro poi puoi fare quel che ti pare ti chiedo solo altri 4 minuti del tuo tempo dedicami questi 4 minuti dai non ti chiedo tanto solo 4 minuti dai 2 1 subito subito drop squat vai hai un minuto e mezzo di lavoro senza pause continua vai su e giù 20 secondi dai vai vai 10 secondi ancora di questo è un mini spacca qualcosa questo dai jump jumping jack jump jumping jack jump jumping jack dai questo è fatto per sudare merdanti l'ultima botta al metabolismo ok dai 10 secondi della pausa go dai dai 3 2 1 30 secondi di pausa come andiamo oggi non abbiamo fatto neanche il tempo a parlare abbiamo fatto mille robe non ci siamo neanche resi conto che il tempo vola come una farfalla pungi come un'ape dai skip laterale l'estrasinistra hop mi ricordo che domenica settimana prossima continuiamo ad allenarci ma domenica ci laureiamo è la laurea domenica alle 10 dai due domeniche fa c'era diploma ora che siete diplomati c'è la laurea poliziotto dai hop giù e giù arresta cotta al dente dai arrestalo dai hop hai le manette? dove sono? hop vai vai hop hop l'ultimo come potevo concludere l'allenamento se non con un lateral jump barbis dai hop barbis salto barbis salto barbis salto barbis hop hop dai dai ritmo sostenuto è l'ultimo quella in pausa hop dai 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 ridente scherzando hai fatto 43 minuti di lavoro secondo me sei un gran bomber e ti dico una cosa ho la frase di conclusione oggi ragazzi un bomber non perde mai o vince o sta imparando siete dei bomber bravi bravi bravi